Assicurati alla giustizia i responsabili del furto a Riverplace in piazza a Rivergaro. Il furto era avvenuto lo scorso 6 giugno ed era stata portata via una macchinetta cambiamonete e svuotata la cassa per un totale di 1000 euro. I due sono un cittadino kosovaro di 26 anni e un albanese di 22 anni. Il primo è stato sottoposto a un ordine di custodia cautolare, si trovava già in carcere per precedenti reati. Il secondo è stato invece denunciato a piede libero perché è incensurato. Abbiamo cercato di dare una risposta quanto più rapida possibile a questo reato perpetrato in piazza Rivergaro, un reato che non è passato inosservato non tanto per il danno quanto per la località e quindi per l'evidenza con il quale è stato perpetrato in pubblica piazza. La stazione di Rivergaro come sempre ha risposto in maniera efficace alla richiesta di legalità. I due malviventi alcuni giorni prima avevano effettuato dei sopralluoghi in piazza osservando attentamente i sistemi di allarme e finestre e non erano però passati inosservati, soprattutto uno dei due perché aveva un vistoso tatuaggio sul collo raffigurante, una tripla X. Partendo da questo dettaglio i carabinieri della stazione di Rivergaro sono riusciti a risalire ai due presunti autori del furto.